domenica 25 settembre siamo chiamati a votare per le elezioni politiche della repubblica per eleggere quindi i rappresentanti del popolo italiano in parlamento a tutti gli elettori verranno consegnate due schede elettorali una rosa per eleggere i rappresentanti alla camera ed una gialla per eleggere i rappresentanti al senato per votare il movimento 5 stelle dovrai soltanto mettere una x sul simbolo così il tuo voto andrà sia il candidato che alla lista ogni altro segno renderà la tua scheda nulla votare è un tuo diritto è la tua possibilità di partecipare e di cambiare le cose i seggi sono aperti domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 buon voto a tutti